... Concretezza e responsabilità per uscire dalla crisi. È un richiamo forte quello lanciato da Giorgio Felici dall'undicesimo congresso della Federazione Industria della CDLS, congresso che si è svolto giovedì 22 gennaio nella sala del Castello di Domagnano. Due obiettivi fondamentali segnano questo congresso. Ovviamente noi pensiamo in qualche modo già di arginare o comunque di essere oltre il rinnovo del contratto di lavoro. In questo senso abbiamo bisogno assolutamente che le forze sociali e la politica risolvano i problemi legati all'approvazione degli ammortizzatori sociali. Ci sono ormai decine e decine di lavoratori sanmarinesi residenti che rimangono a casa per cui senza posto di lavoro, non hanno ammortizzatori sociali e questo è un impegno, un'incombenza che tutta la classe dirigente di questo Paese deve avere per cui una assunzione di responsabilità immediata. Il secondo obiettivo è quello di mettere mano immediatamente ad un progetto di politica industriale, assolutamente necessaria per il nostro Paese perché non basta la dichiarazione il San Marino, il sistema San Marino nell'isola dei servizi perché questo tipo di politica oggi la stiamo pagando sotto tutti i punti di vista. Questo vuol dire appunto dare valore all'economia reale, dare valore, ritornare a dare valore al lavoro e in questo senso mettere mano al concreto, all'intervento per quanto riguarda soprattutto le aziende storiche che ci sono in questo Paese che hanno progetti di carattere industriale per cui dare una mano concretamente a questo sviluppo. Grazie a tutti.